Ci hanno consegnato un quadro complicato, queste misure non saranno risolutive ma i provvedimenti che metteremo in campo andranno a migliorare il pronto soccorso dando una risposta a un'emergenza di sistema. Sono le parole del governatore Francesco Acquaroli, intervenuto alla presentazione del piano di potenziamento delle attività di emergenza urgenza che prevede la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo per i mesi estivi. Questo, ha sottolineato l'assessore Saltamartini, è frutto di un lavoro che è durato mesi dopo aver registrato delle criticità sulla permanenza di persone che non riuscivano ad essere ricoverate nei reparti per mancanza di posti. Ma non solo, infatti è stata rilevata in alcune occasioni una carenza nelle somministrazioni di cibi e acqua, oltre ovviamente alla mancanza di medici. Da queste premesse sono state messe a punto 10 misure a partire dall'ottimizzazione dell'attesa. Che cosa si prevede? Innanzitutto nelle astanterie dei pronti soccorsi dovrà essere presente una persona che informa tempestivamente in tempo reale i tempi di attesa nei pronti soccorsi. Dovranno essere predisposti anche dei monitor in cui dovranno essere indicati i codici di priorità, quindi rossi, arancioni, verdi e bianchi, in modo tale che chi ha la più bassa priorità si debba rendere conto che dovrà aspettare se ci sono i codici rossi. Dopodiché viene istituita la figura del bed manager, un medico, un dirigente responsabile di allocare i pazienti nei reparti, perché abbiamo potuto osservare che c'è quella grandissima criticità di una presenza eccessiva nei pronti soccorso. Poi c'è un ulteriore intervento per quanto riguarda le ipotesi di sovraffollamento. Nell'ipotesi in cui questo si verifica viene predisposto un elenco settimanale di medici con funzioni equipollenti che all'occorrenza potranno essere chiamati a prestare servizio nei pronti soccorso dai direttori di presidio. Altra novità, ha proseguito Saltamartini, sta nel costante monitoraggio che verrà avviato su tutti gli addempimenti e i direttori generali, così come quelli di presidio, verranno valutati dall'Agenzia regionale sanitaria. I medici che potranno essere chiamati in caso di sovraffollamento verranno remunerati con prestazioni aggiuntive e quindi sono dei trattamenti piuttosto rilevanti di 500-600 euro per turno, quindi riteniamo che al netto dell'IRPEF ci possa essere anche un'opportunità per tanti medici. Per cui verificheremo nei prossimi giorni il funzionamento. Però qua nessuno poi si potrà giustificare, per esempio, come è accaduto sul fatto che per esempio mancava l'acqua o non c'era la prestazione alberghiera per le persone a pronto soccorso. Noi individuiamo esplicitamente per ogni ufficio, per ogni unità operativa complessa, i responsabili che saranno chiamati a garantire il servizio, tenendo conto, ripeto, di milioni di turisti che potranno arrivare alla nostra regione e del diritto dei medici di fare le loro vacanze, le loro ferie dopo due anni di pandemia. Previsti anche progetti di adeguamento strutturale e tecnologico, nonché l'attivazione dei percorsi di fast track attivabili direttamente dall'infermiere del triage. Quindi nel caso di patologie minori il paziente potrà essere sottoposto subito ad una serie di accertamenti senza la necessità di dover attendere la visita del medico del pronto soccorso. Infine si punta ad una collaborazione da lunedì al venerdì con i medici di medicina generale e H24, sette giorni su sette, con gli ospedali di comunità per la presa in carico delle non urgenze e urgenze minori e quindi i codici bianchi e verdi. In tutta Italia il sistema sanitario è in forte crisi. Noi stiamo molto investendo sulle borse per cercare di colmare questo gap che si viene a verificare, però dall'altra parte stiamo mettendo in campo tutta una serie di azioni che oggi abbiamo raccontato per cercare di efficientare il sistema di emergenza-urgenza. Abbiamo una media del 50% di codici bianchi e codici verdi che arrivano nei pronti soccorso. Sono codici che purtroppo per loro natura presuppongono un'attesa molto lunga e che quindi portano dei disagi agli pazienti e agli utenti. Sempre, ma soprattutto nel periodo estivo, quando un numero di cittadini, pazienti, utenti vanno nei pronti soccorso, occorre dare una risposta più efficiente. Siamo consapevoli che non è la risposta definitiva, però siamo anche consapevoli che è un piccolo passo avanti di miglioramento e efficientamento del sistema attuale.